Il padre Aldo Il padre Aldo La fondazione San Raffaele in sua intenzione originale era una specie di fraternità fra alcune persone che ci siamo messi insieme per fare una piccola cosa, un piccolo ambulatorio. E da lì dopo è partita la questione delle grandi opere che ora si vedono. Il padre Aldo L'ospedale tutti i giorni c'è uno che va e uno che viene, quello che va evidente va con la casa da morto, quello che viene lo andiamo a cercare lì dove ci chiamano perché hai un malato abbandonato e che ha bisogno di essere internato nel nostro ospedale. Qui noi ne abbiamo 48 e sono praticamente tre piani e abbiamo accompagnato a morire in questi anni più di 1500 malati terminali, mentre altri 400, grazie a Dio, sono tornati a casa con le proprie gambe. La clinica è un segno della misericordia di Dio. Nessuno muore lamentandosi, tutti muoiono in grazia di Dio. Buongiorno, Giuseppe non può muovere niente, solo questo è tutto un blocco di marmo, vedete? No, non è un altro po' Allora Giuseppe. Allora, Giuseppe, voglio sapere di cui stai contro della autonassia. Ma questa cosa non serve. Perché? Perché facevano staggersi e scocciai. E��오 staggersi non. Ma per te la vita è bella? Bellissima, per me che faccia il mare quasi 20 anni che sto così. È bellissima, nonostante siano quasi 20 anni che sto così. E qual è il messaggio che tu daresti a loro che vengono da Roma, dove tutto il perverso e il pervertido è sovrano. E le agradeziamo demasiado che scrivano e che dicano che che come la Fondazione San Raffaele non c'è altri che non siano aiutando. Che non ha nessun'altra fondazione come questa e che seguono aiutandola. Perché lui non saperebbe dove, non saperebbe dove irse, no? Come è che ti attiendono aca? Demasiado, è meglio che in casa, è meglio che in un hotel pagato. Mi attendo, no? Mi curano meglio che in un albergo pagato. Sei contento? Mi contento, padre. Molto contento? Molto. Ma che qualcuno dice che sto solo, sempre sta Gesù con noi. Anche se alcuni dicono che sei solo, sei Gesù sempre con noi. Va bene? Bene. Ciao. 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 Una storia dolorosa da qui che pesava niente, totalmente desnutrita. Lui, trento anni, lo vedi cosa è scritto là? Il mio figlio è adottivo, ma quando l'ho trovato era corto così, la testa buona. Per cui mi ha fatto un'impressione, non sapevo se era uno che veniva da Venere o se era un uomo di questo mondo. Lo usavano per chiedere soldi nella strada. Il valore ontologico di questi ragazzi è che sono relazione con il mistero, sono relazione con Dio. Questo è il senso della loro vita. Queste sono piccole ostie bianche, ce l'hanno portato qui e noi lo custodiamo come il Santissimo. Questo è un piccolo indio. Anche lui è una piccola ostia bianca. Anche lui è un piccolo indio. Anche lui è un piccolo indio. Anche lui è un piccolo indio. Qui siamo in questo capannone che oggi rappresenta il lugar dove i poveri vengono a mangiare. Mangiano tutti i giorni i nostri bambini poveri. Una volta alla settimana 200 di questi poveraggi, uomini e donne, che vengono da tutta Assunzione. Non diamo solamente da mangiare, ma diamo anche una borsa di viveri in modo che non abbiano problemi di sopravvivenza durante la settimana. Questa è un'opera veramente bella e commovente perché quando arrivo tutti mi battono le mani e tutti vogliono che li imponga le mani sopra la testa. Questi poveri credono nelle mani del prete perché lo Spirito Santo dì a loro la forza di portare avanti una vita vicente e a volte di una durezza impressionante. C'è il Policubulatorio che ha quasi 20 medici che agiscono volontariamente e che in questi anni ha atteso a più di 35.000 persone. Ho conosciuto Padre Ando per mezzo di miei amici che venivano qua a lavorare in questo centro di aiuto alla vita. Allora mi sono incuriosito, sono venuto la prima volta e da lì ho cominciato a lavorare un po' più assiduamente per cercare di dare una mano a questo centro che ha diverse opere. Noi siamo dentisti, ci occupiamo di denti e cerchiamo di fare il nostro mestiere sia nell'organizzazione del lavoro sia nel lavoro effettivo assieme ad altri volontari, medici che stanno qui molto più di noi. Noi anche da distanza cerchiamo di collaborare, di coordinare il lavoro. Io spero che diversi miei colleghi vengano a vedere questa situazione perché è importante non chiudere gli occhi. Poi c'è la casa di Cichitunga, dove stanno 25 bambine violentate. Alla Fondazione San Rafael chiedono aiuto poveri da tutto il paese, a cominciare da quelli della capitale. Vengono dai quartieri di Bagnado Norte, Bagnado Sur, la baraccopoli che ha una discarica a un fianco, una fogna a cielo aperto all'altro. E poi dalla Ciaccarita, la favela che spunta dietro un angolo del centro della capitale, a poche centinaia di metri dalla cattedrale e dal palazzo presidenziale. Qui più volte l'anno le baracche si allagano quando il fiume Paraguay estraripa. Quando il fiume esce fuori, l'acqua ristagna qui invece di passare di là e si allagano tutte le case. Questa è la mia casa. Ora posso usare solo una stanzetta perché quando piove forte l'acqua arriva fino alla finestra e di quattro stanze e una sala da pranzo, ne rimane accessibile solo una. Ho tre figli e solo una stanza e neanche il bagno. È lungo il viaggio per uscire da Asunzion, circondata da un'ampia fascia di quartieri dormitorio. Oltre un milione di persone che tutte le mattine vanno a lavorare in città e tornano a casa solo per dormire. Si parte per visitare la fattoria Padre Pio, un'altra delle opere della fondazione. Durante il viaggio ci si ferma a Giaguaron in una missione francescana del Settecento, San Bonaventura, praticamente un libro di teologia in muratura. L'altare è una catechesi solamente guardandolo e ve la spiego. Sopra, in cima, voi vedete che c'è Dio Padre, Tupa, Tupa, Padre e Creatore. Padre, perché tiene la mano destra benedicendo. Creatore, perché tiene nell'altra mano il mondo. È sostenuto da due angeli e sotto ci sono teste di angeli che fanno corona al Padre. Nella pienezza dei tempi il Padre invia l'Espirito Santo. Vedete la paloma, la colomba, che entra nel ventre della Vergine e santifica praticamente il suo utero depositando la semiglia del Verbo. E questa è la Vergine Immacolata. Dio si fa carne nel ventre della Madonna, però dove vive oggi? vive nell'Eucaristia. L'Eucaristia riprende gli stessi angeli che stanno con il Padre. E nel Sagrario sta l'agnello con la bandiera della vittoria. L'agnello trafitto con la bandiera della vittoria. Questo è il mistero dell'incarnazione. Da una parte c'è un movimento dall'alto verso in basso. Però se io a cosa sono chiamato? Filippo dice, Signore, mostraci il Padre. Il desiderio dell'uomo è tornare al Padre. E com'è che l'uomo può tornare al Padre? Mediante l'incontro con Gesù Cristo, vivo nell'Eucaristia. Se poi vedete bene la immagine, ci sono sette gradini, che sono i sette sacramenti. E nel centro dei sette sacramenti sta ancora la Vergine Maria. Significa che Dio si fa carne mediante lei. Però anch'io non arrivo a Dio se non attraverso di lei. Adiesum per Maria. E nel fondo però, in quella piccola nicchia, c'è l'autorità. Vediamo Pietro con la tiara e la croce con tre livelli. E quindi attraverso sacramenti e l'autorità, noi arriviamo al Padre da cui siamo venuti. Quindi è il percorso che Don Giussani ci dava la grazia di poter fare quando ci spiegava cos'è il cristianesimo. Che è un avvenimento che entra nella storia e che permette all'uomo di poter conoscere il Padre. Mediante l'Eucaristia, i sette sacramenti, la Madonna immacolata al centro, nello sfondo Pietro con la sua autorità, l'autorità della Chiesa, noi arriviamo al Padre. La chiamano semplicemente la granca, ma il suo nome è Fattoria Padre Pio. Era questa la volontà della donna devota al santo che dopo un pellegrinaggio regalò a Padre Aldo un grande terreno. Sterpaglie, selva, serpenti, animali di ogni tipo, tanto che Padre Aldo e Padre Paolino, che in quegli anni era con lui in Paraguay, non sapevano dove mettere i piedi. Ci sono voluti mesi, anni di lavoro. Anche i ragazzi del carcere minorile hanno aiutato a disboscare, bonificare, pulire e infine a costruire, prima una piccola casa, poi una più grande. Oltre a ospitare ex tossicodipendenti e malati di AIDS, che ci lavorano tutto l'anno, la granca, anche grazie alla piscina, è diventata il luogo in cui si può venire a riposare e a pregare. E anche il luogo del riposo eterno. La fattoria Padre Pio, che dal punto di vista degli ettari, sono 14, però lì alberga 6-7 malati che si sono recuperati dall'Aise. Una zona ben ordinata, c'è anche una bonifica che abbiamo fatto di una pallude, facendo come quasi una piccolissima Venezia con tutti i canali divisi fra loro da piccoli ponticelli. E lì praticamente vanno anche a passare delle giornate gli ammalati o gli anziani delle nostre case. Andiamo insieme di case per anziani, sono quasi 5 con la casa mia di vecchietti o di gente vagabonda, di barboni che raccogliamo dalla strada. O che la polizia stessa trae nelle nostre case di giorno o di notte. La porta è sempre aperta per loro. Non esiste che la porta sia chiusa, assoluto. Per quello che anche la casa mia, praticamente, sia riempita di questi por diosero, di questi barboni, che adesso guardandoli non sono più barboni. Sono persone che vengono a dormire nella mia casa e sono tutti felici di stare lì con me e io sono felice di stare con loro. Perché il mio desiderio non era quello di essere un prete borghese. È sempre stato il desiderio di essere un uomo mangiato da Cristo e mangiato dai poveri. Ogni casa ha più di 20 vecchietti, 20 barboni in totale, quindi se facciamo bene il conto sono più di 80 persone che vivono stabilmente in quattro case. E a dormire è nella quinta casa, che è la mia casa, dove io vivo. C'è la scuola, Paia Alberto, che è la scuola elementare, che tiene 240 bambini delle favela, la maggioranza. Poi c'è il collegio politecnico, con 5 specialità attualmente, e che anche lui dà una risposta educativa alle centinaia di ragazzi che vengono dalle favela e che arrivano qui tutti i giorni alle 7 della mattina fino alle 7 della sera. La provvedenza di Dio è sempre presente. Il problema siamo noi, se ci crediamo o non ci crediamo. A volte la gente pensa che portare avanti queste opere sia come se fosse andare in bicicletta. Qui ci sono 200 operai che lavorano. Ci sono quasi 500 persone, fra malati, bambini, ragazzi, scuola e tutto il resto. A cui pensare tutti i giorni a dargli da mangiare, tutti i mesi pagargli lo stipendio sindacale. Noi praticamente dall'Italia non riceviamo quasi niente. E anche nel conto occorrente che ho in Italia, quando mi mandano l'estratto conto, vedo 30 euro, 50 euro, 10 euro, rare volte 100 euro, rarissime volte 1000 euro o più. E ringrazio questi qui. C'è uno che rinuncia al caffè tutti i giorni per mettere via un euro e alla fine del mese mi manda 30 euro. C'è la carità dei poveri, l'obolo della vedova. E viviamo così. Finché si vede se è l'opera del Signore, come diceva Gamaliele, se quest'opera è di Dio, è inutile che voi cercate di distruggerla. Non riuscirete. E se non è di Dio, che vaga a farsi benedire. Stando davanti al Santissimo, ho trovato non solo l'ispirazione per tutto quello che voi vedete qui, ma anche la forza e l'energia per cui è nato tutto questo. Per questo, quando sono arrivato qua, ho voluto che perfino della strada, se voi passate di notte, vedete il Santissimo illuminato, perché il Santissimo è il fondamento di tutta l'opera. Per cui l'opera si fonda sull'amore a Cristo Eucaristia e l'amore a Cristo Crucifisso nei malati. Però questo è il cuore di tutto. Se viene meno quella realtà lì, preferisco che venga meno tutto. Per questo lì è scritta una frase in latino, «Domus Dei et Porta Ceri». Questa è la casa del Signore, questa è la porta del cielo. E' stato un lungo viaggio quello che lo ha portato qui. All'inizio, padre Aldo era un giovane sacerdote che negli anni della contestazione era affascinato dai temi della giustizia sociale, dalla sinistra e in particolare da potere operaio. Mio padre era emigrante, la sofferenza della mia famiglia era tanta, cercavo la giustizia e mi sembrava che la giustizia veniva solo dalla sinistra e per cui c'è stata una simpatia per di là. E ovviamente quando i miei superiori si sono resi conto mi hanno spedito a Salerno. A Salerno padre Aldo divenne insegnante, dei figli dei carcerati e anche in un liceo. Quell'anno è venuto in Italia il segretario di Stato americano Kissinger e tutta l'Italia si è mossa contro l'imperialismo americano del Vietnam. E anch'io mi sono mosso aderendo e si opero. Però 4 o 5 ragazzi di una prima liceo scientifico si sono posti e mi hanno fatto arrabbiare perché per colpa di loro io non potevo abbandonare l'aula perché sarei stato sospeso, perché una cosa è uscire con tutti i ragazzi, un'altra cosa è io lascio la classe con dei ragazzi dentro. A un certo punto gli ho sfidato, ma che cosa, perché voi vi opponete a questa cosa qui? Ma il professore dovrebbe essere lei che ce lo insegna, che non è con le manifestazioni che si cambia l'Italia, o si cambia il mondo, il mondo cambia se cambia il tuo cuore e il tuo cuore cambia se incontra Cristo. Io sono rimasto stecchito perché ero prete e gli ho chiesto ma chi siete voi? Noi siamo ragazzi di comunione e liberazione, sul che me hizo un po' andare i fumi alla testa, perché avevo visto questo movimento come di estrema destra, un integralista e da lì è incominciata la mia storia. Gradualmente, a cominciare da quella provocazione di quattro liceali di comunione e liberazione, Padre Aldo si coinvolge sempre più fortemente nel movimento ed è proprio durante un convegno di CL che succederà qualcosa che cambia tutto. Ah sì che un giorno, non sai com'è successo, ho incontrato in un'assemblea a Padova del movimento di comunione e liberazione una signora vedova con tre figli che raccontava la sua testimonianza. mi ha veramente preso tutto e da quel momento l'ho cercata per mari e per monti finché ci siamo incontrati e ambe due ci siamo praticamente innamorati uno dell'altro. A quel punto lì entra in gioco la mia depressione dovuta soprattutto al fatto che io sono prete e non potrò mai rinunciare a quello che sono, non l'avrei mai fatto. Da quel momento non ho più dormito per più di dieci anni. Immaginatevi voi cosa vuol dire non dormire più per più di dieci anni e da diventare matti. Terribile le sensazioni che avevo di calore, di freddo, la non più voglia di vivere. Sono andato finalmente a Milano da Giussani e mi ha ricevuto vedendomi come un poveraccio con le lacrime agli occhi e distrutto perfino fisicamente. E mi ha chiesto cos'è che ti passa. E Giussani mi sono innamorato di una donna e sto molto male. E lui mi dice, ma che bella cosa che ti è passata. Adesso finalmente diventerai un uomo. Vedi, dice Padre Aldo, il tuo cuore è come questo bicchiere. Questo bicchiere non è pieno. Per questo qualunque mosserino può entrarci. Ma se questo bicchiere fosse pieno, asta straripare, non solo i mosserini non entrerebbero, ma anche feconderebbe la terra. E perché il tuo cuore non è ancora pieno di Cristo. Quindi questa è una grazia perché ti fa capire che quello che ti è accaduto con questa donna è dovuto alla fatto che il tuo cuore non è pieno di Cristo. E arrivato il mese di agosto dell'89 mi dice, ho deciso di mandarti in Paraguay. Perché così non perderai mai questa donna. Cioè è un bene, ha detto. Per lei, per la Chiesa, per il Movimento e per te. Per me, appena appena adesso, riesco a dire che è stato un bene per me. E così è iniziato tutto. Mi sono trovato con queste opere, non perché l'ho voluto io, perché se fosse di peso da me e anche oggi dipendesse da me, e me ne tornerei al mio paesino, a Faller, in provincia di Belluno. Non è che mi sono sposato con la fondazione, eh. Io mi sono sposato con Cristo Gesù. Lui è l'amore della mia vita. Lui è la ragione della mia vita. Lui è la ragione della mia vita. Nando, Nani, Martino, Guido.